L'agriturismo La Camila nasce nell'anno 2000, nella provincia di Monza e Brianza e offre servizi di alto livello. L'agriturismo La Camila vi accoglie in un contesto verde, cordiale e tranquillo, a contatto con la natura e la cultura del territorio. All'interno dell'agriturismo trovano spazio una fattoria con animali da cortile, pecore e brianzole, maiali, manzette, cavalli, gli orti, un frutteto, un vivaio. Una chiesetta Due laghetti artificiali Ristoro agrituristico Carrozze d'epoca Barbistro Camere e sale meeting Tutti gli animali dell'azienda agricola sono allevati con alimenti completamente naturali, fieno, orzo e avena. Sono quasi tutti brianzoli da adozioni coloratissimi animaletti pennutti, pellosi, presenti in vogliera. Quasi tutti gli animaletti si sono ben ambientati e lo dimostra il fatto che si riproducono con facilità ed ogni piccolo essere ha un nomignolo che i bambini danno ai loro nuovi amici quando vengono a farle visita. La camilla propone principalmente piatti caratteristici della cucina tradizionale lombarda e specialità regionali italiane. La cucina è tradizionale, semplice e genuina. Le carni suine e i salumi vengono lavorate da un'azienda agricola partner di Brivio in provincia di Lecco. Gli altri prodotti, quali formaggi, uova, riso, vino, olio, pesce, vengono acquistati da aziende agricole lombarde rigorosamente selezionate. I menù dell'agriturismo la camilla includono menù alla carta, menù settimanale, menù domenicale, menù speciale, menù bambini, menù bar bistrò. Al bar bistrò si effettuano colazioni, aperitivi, pranzi, cene, merende, buffet. Nell'orto ed in serra si coltivano principalmente melanzane, zucchine, pomodori, zucche, finocchi, piante aromatiche, insalate di vario tipo, piselli e rappanelli. I prodotti ricavati sono utilizzati all'interno del nostro ristoro agrituristico. Le coltivazioni sono garantite del marchio Made in Brianza. Il marchio verde Made in Brianza viene assegnato dalla Camera di Comercio di Monza e Brianza che intende promuovere le eccellenze del territorio per i prodotti agricoli. L'azienda agricola dispone di un vivaio di 3500 metri quadri che conta un'ampia varietà di piante da siepe ornamentali, tutte acquistabili direttamente in loco. L'azienda agricola alleva pulletri da fattrici di sella italiana. I pulletri vengono allevati al fine di essere addestrati nelle discipline di salto, ostacoli e dressage che vengono insegnate nella scuola equestre ASD La Camillina, ubicata presso l'agriturismo La Camilla. Le scuderie contano capi di diverse razze utilizzate, oltre agli scopi sopra descritti, anche in base alle loro caratteristiche morfo-attitudinali ed in particolare gli ungheresi e i murgesi adatti agli attacchi. Gli andalusi adatti agli spettacoli di alta scuola spagnola. La Camilla dispone di camere delle particolari rifiniture, dagli arredi curati e dotati di ogni comfort. Le camere sono di tre tipologie, standard, superior e suite. Ogni camera ha il nome di una corte del paese di concorrezzo. Tutte le camere sono ampie, metrature e dotate di servizi igienici con finestra. Agriturismo La Camilla è la location adatta ad accogliere meeting aziendali, congressi, conferenze, convention, presentazioni di prodotti, spot pubblicitari e attività di team building effettuabili all'interno delle sale stesse o all'aperto. Lo staff è in grado di rispondere alle specifiche esigenze, rendendo ogni evento unico nel suo genere, in uno scenario interessante e spettacolare allo stesso tempo. Presso l'azienda agricola La Camilla si possono organizzare anche battesimi, matrimoni, comunioni e cresime. Grazie a tutti.